Attimi di paura questa mattina via Cappuccini a Torre del Greco. Cadono calcinacci dal cornicione di uno stabile, ferita una signora. Il fatto è accaduto intorno alle 8.30 nei pressi della tabaccheria, per fortuna non in un'ora di punta. Si tratta infatti di una strada abitualmente percorsa da molte persone, perché via d'accesso al centro e all'area mercatale di via Falanga. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti di polizia municipale, i vigili del fuoco, che in queste ore stanno provvedendo a rimuovere il pericolo e a mettere in sicurezza l'intera area. Presenti anche i carabinieri, gli operatori del 118, che hanno tempestivamente trasportato la donna all'ospedale Marisca. Da una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che la signora sia stata colpita dal cedimento, fortunatamente non in maniera grave. Dai primi accertamenti eseguiti dai sanitari, infatti, al momento la 52enne ha riportato solo iscoriazioni e non ci sono alterazioni significative dopo il trauma subito. L'aria è stata immediatamente transennata e la strada chiusa al traffico veicolare. L'ennesima tragedia sfiorata, a poche settimane dal crollo di calcinacci che si verificò di pomeriggio in pieno centro cittadino, all'angolo tra via Diego Colamarino e via Comizi. In quell'occasione non si registrarono danni a persone e cose. Un fatto che tuttavia riaccende i riflettori sulla necessità di manutenzione dei palazzi fatiscenti presenti sul territorio. Una problematica più volte evidenziata che resta, ahimè, di grande attualità. Grazie. Grazie a tutti.